Colpo di scena, in quel periodo mi arriva l'ondata degli albanesi in Italia, quindi gli albanesi. Era politicamente un po' in grado e quindi l'abbiamo cambiato. In Bulgaria, incredibilmente, andai in Bulgaria. In Bulgaria erano contentissimi di noi che facevamo. Perché? Perché la Bulgaria è un paese, si può dire un po' sfigato. Maggioranza bulgara, cosa vuol dire? Vuol dire quando la maggioranza non è proprio netta. No, non vuol dire questo, scusate. Dì perché... La maggioranza è bulgare quando tutti dicono quello che vuol, no, all'unanimità. Ma sì, ma lo sapevo. Quindi loro due facevamo gli acrobati finti, un po' sfigati. Torniamo e diciamo, Giacomo, fai anche tu. Lui che è veramente scarsissimo. Però sono andato tante volte al circo, che arrivava un acrobato che non faceva un cazzo di niente. E arrivava alla fine... Faceva questo movimento. E l'ho fatto e grazie al mio intervento è diventato uno sketch leggendario.